Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello per materiali dispersi, rallentamenti tra Firenze Scandici e Firenze in Pluneta. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Visa. Sulla FIPILI per traffico intenso, code in uscita a La Strassigna, Santa Croce e Cascina, rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze. Per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano, restringimento di carreggiata tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze in Lungarno, Pecori, Giraldi, restringimento di carreggiata con code in aumento. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!